avanti ho smesso di vivere quando ho smesso di sognare la gente la gente parla 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 e parla ma in realtà non dice nulla si parla di nulla diciamo solo cazzate e poi è difficile davvero trovare un buon interlocutore a volte credo di aver sempre saputo tutto si come sarebbero poi andate le cose è come se quello che accade l'ho già immaginato tempo fa tutto questo non credo di essere un veggente però questa è una delle cose più difficili da affrontare per un uomo perché è come andare incontro al proprio destino conoscendolo già ho smesso di vivere quando ho smesso di sognare adesso si si si